No 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 scusa Concedo Giustamente ogni duello adesso sta finendo con concedo Perché non giochi tanto? Perché? Ciao a tutti ragazzi io sono Vergens E qui c'è con me Black Velocity Che sta provando a masterare il prankiz E oggi ragazzi voi sapete che cosa sto giocando? Forse per Velocity no Cosa sto giocando? Bah 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 Mi buzza di bah Vediamo chi partirà per primo 5 vai Scolobimbo No ok Parto io Vediamo se riesco a Posso spiare No non spiare un cazzo Perché tanto lo scoprirai subito Bastardio 1, 2, 3, 4 e 5 Stiamo parlando di Burning Abyss contro Prankids Posso? Vai Fascino Che fai? Pesco 2 Pesco 2 E banno il cavallio di fantasma degli stivali silenti Allora faccio special di Libic e Superboy Dragic Usa tutti e due Faccio il bellissimo Cerubino Effetto Cerubini Va bene? Mando dal deck al cimi Mando dal deck al cimitero Silent Boots Effetto Silent Boots Da tua mano nel mio turno Volevo togliere il cancro Volevi trassarmi Il cancro Bastardo Il cancro Con Silent Boots Mi addo la Fogblade Cancro E dai E cancro Tra l'altro adesso Cerubini sta a ben 700 di attacco Wow No 200 Non guadagna 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 attacco e difesa Pari agli attacchi e difesa Nel nostro mondo dal cimitero Mando a Graf Dopo Quindi Adesso faccio special di Skarm Special di Graf Faccio XYZ E faccio Dante Lo faccio in difesa Dai Ma ti è un attacco Allora E se Effettivamente Faccio in difesa Dante Effetto Dante Vediamo Chi scart Stacchiamo Stacchiamo Graf Che mi fa evocare specialmente dal deck E macino 3 Macino 1 Macino 2 E macino 3 Ok Skarm Settibilità Land Effetto Graf Evoco specialmente dal deck Eh Cos'è che vuole dal deck Un mosto ha visto bruciante dal deck Eccetto Graf Ok Evocchiamo No Evocchiamo Il bastardo che ti fa dam Barbaro Anzi no Oddio Vediamo C'ho qualcosa No Cazzi neri Aspetta Se io banno Non ho fatto normal No Ho fatto specialmente Specialmente Però no Sti vadi silenti L'ho già attivato Effetto Quindi no Posso più riattivare Maledition Vabbè Non svolge No è perché Volevo evocare normal Un cavaliere fantasma E fare Cavaliere Fare Virgilio Così evocavo Rubik Eh sì Adesso devo evocare di Graf Volevo evocare Rubik Però E no Perché non posso fare Virgilio Vada la pena Faccio Barbaro E evoco Barbaro specialmente Così siamo lo spacchi Sono già pronto Vediamo che ho il cimitero Farfa Scarma Stivali silenti Graf Libik Dragheeg Ok Hydralander Una volta per turno Puoi mandare Piena 3 carta A te che ci metti Adesso c'è una carta Sul terreno Vediamo che cosa posso fare Nell'ex adek Mi pare nulla Nada Quindi Setto E Vai Bro Siamo in my name Vai vai Setto 3 Wow E che cos'è sta cosa Leicester Effetto A due lo che Pensi Girala 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 Sword su Leicester Vai Effetto nulla Non ha più l'effetto E non può attaccare E non può essere attaccato Poli Poli Vediamo se posso fare qualcosa Ok Hai un'altra Leicester Wow Avevi Un'altra Leicester Cocito Che vuole Leicester più mostro acqua Si attiva lui No Perché lui Sotto i misti Trankits Ok Questa è una settata Posso Cosa fa Cocito Attacca Anche se è in difesa No Non può essere sotto Degli effetti delle carte No E non può essere scelto Come bersardo Degli effetti delle carte Porca troia Può attaccare Mentre è scoperta In difesa Però attacco L'attacco Col valore dell'attacco E 1800 Quindi vale 1800 Puoi attaccarmi sostanzialmente Non attacco Non attacco Non attacchi Ok Però Stand by Main Posso? Mh Allora Facciamo una bella cosa Banno Stivali silenti E addo Dal deck Alla mano Un altro sword No Addo Una qualsiasi carta Pk Quindi Mi addo Mi addo Un antico mantello Mi potrei fare Un altro dante In questo momento Ma non lo so Allora Faccio normal di lui Lui non si distrugge Dato che è puntato La cherubini Allora Posso fare Uno e due Ok Puoi fare un attacco In difesa In attacco Faccio I cavalli di fantasma Nella spada infranta Non ho altri Cavalli di fantasma Al cimitero Quindi non posso Attivare il suo effetto Ma fa niente Distruggi questa carta Nel tuo cimitero Lo calo specialmente Ma abbandiscono Quando lascia il terreno Ok Effetto Dante No aspetta Dove sta trattare Prima No Non faccio Effetto Dante Faccio Oddio Tu hai due carte Settate Io cosa ho in mano Forse Con gli altri Secondo Dante Non lo so Vabbè In ogni caso Io ti devo spaccare Quella roba Non ho BA sul terreno Non posso evocarli Perché c'ho lui Quindi Facciamo una bella cosa Allora Effetto Cherubini Mando dal deck Calcimitero Guanti laceri Effetto Spada Infranta Spacco Se stesso E Spacco Una carta Dice E' una carta Contrata Tutto per sé Di distruggire Spacco questa Ok Barbar Lo attivo Sì Attivo Barbar Vanno Tra l'altro Prima non hanno evocato Di Scarm Ma tanto Andava di sotto Il mostro Vanno Scarm Graf E Libic E ti faccio 900 Wow 200 Sì Dai Ho fatto abbastanza Bene Ok Parte l'effetto Di Spadio Infranta Riavoco specialmente Loro 2 Perché Riavoco specialmente Due mostri Cavalli del fantasma Cimitero E adesso sono Di Livello 4 Faccio Xiz Che fai? Ribellione Oscura Sono un po' Messo male Effetto Ribellione Oscura Stacco Antico Mantello E Lui perde La metà Dell'attacco Lui guadagna La metà Del suo attacco Quindi Lui sta 500 Lui sta A 3000 E tra l'altro Quando Avevo attaccato Metà Lix Sta A 4500 Per l'effetto Di guanti Laceri 1.5 Guadagna 1000 1000 4000 Ah Stava 4000 E' vero Allora Io ho sempre mostri Con nome diverso Devo shotare Io Quindi Effetto Hydra Lander Devo Macinare Trezze 1 2 3 E Ti spacco Leister Che scelta Abbastanza singolare Ma va bene C'è questa settata C'è questa C'è questa settata Ho capito Che è una forza riflessa Può essere Sì Questa l'ha spaccata Può essere Ok No Posso Bannare Antico Mantello E mi sa che lo faccio Oppure posso Bannare l'ama della nebbia E prendermi Ed evocare specialmente Banno l'ama della nebbia Ed evocare specialmente Antico Mantello In difesa Cazzo dove evocare Evocare specialmente E abbandiscilo Quando lascia il terreno Evocare specialmente qua Poi Effetto dell'antico Mantello Lo turni da Thunderdrego Mi prendo Una sword In mano Dato che non l'avevo ancora Attivato il suo effetto Fino ad ora Dove c'è solo questo No vabbè Ed è raro Che giri bene E' intanto Due parti Tra l'ho fatto Girando tra l'ho Questa è proxata È una sword proxata Effetto Dante No Prima di tutto Lo sposto in attacco E poi effetto Dante E macino tre Uno Due E tre Ok Ho macinato due Rino Che Non è male Però non mi interessa Molto Poi che è specialmente Molto scritta Ma i suoi effetti Sono annullati Un'oscurità demone Di livello 3 Avevo spazio Libic Un'oscurità demone Livello 3 Posso evocare Quello che ha di più Che sarebbe Barbar L'ho già fatto Barbar Né un altro No Nel cimitero Ah Era nel cimitero Che faceva evocare Libic Mi pare Ah no Era la tua mano Pardon No E allora Non posso attivare Libic E' attivo E' attivo il rino Allora Che mi fa mandare La decca al cimitero E poi in cena Attivi Libic Non cazzo No Non c'ho Traore Drogato Di emozioni Mando Calcab Effetto Calcab Torno in mano Piacere Ok Allora Quel costo è 2009 Poi sei in battaglia Sì? Certo Ok Allora Lui c'ha 4000 Lui c'ha 2005 Lui c'ha 3000 Lui c'ha 700 Perché mi pare Che ha mandato Stivali silenti Quindi Hydra Lander Attacca Cocito Distrutto Dante Fa 2500 Non so se è finita Ribellione Oscura Fa 4000 E' finita E' finita E' finita Lui c'ha 600 Appunto Ah no Lui fa 700 Che culo Avevi i colled Dopo i colled Ma l'hai attivata Potevi Bannarmi Questi Avevo in mano Due sbordi Io Non risolvo niente Mamma mia ragazzi B.A. Ha scombato B.A. Cioè Magari Avrò sbagliato qualcosa Forse Non lo so Ditemelo nei commenti Nel caso Però non penso Di aver sbagliato qualcosa Onestamente Ho evocato Quando non avevo Quarte settate Specialmente Perché l'ho fatto A primo turno L'effetto di cherubini L'ho attivato una volta Gli effetti Di pk Li ho attivati Ma Questo L'avevo bannato di costo Questo l'ho attivato il turno prima Questo l'ho attivato il secondo turno Questo non l'avevo mai attivato Quindi Penso di aver fatto tutto bene Per quante poche volte Usi questo mazzo io E quindi niente E due Io ho finito Per qualsiasi Per qualsiasi Grazie a tutti.